bam vai signore signori finalissima la topolina contro irast non iran irast il furbo demolitore del porto allora premettiamo questa partita è la più corta del torneo la partita flash della partita più corta del torneo ps da notare che sono tutte e due della vecchia espansione tutte e due vecchie espansioni della prima perché ormai siamo un'era terza espansione che tra l'altro si chiama vc non so se sia una buona premessa perché a vc di solito ci si espletano fuggie fisiologiche non è che facciamo proprio piacere che allora premettiamo un'altra cosa come vedete l'inquadratura è leggermente sbagliata perché abbiamo dovuto cambiare la batteria si capisce lo stesso però vi avvertiamo vabbè tanto dopo non si vede l'ultima chiavetta la in fondo di non michelangelo come si chiama quell'altro dai tornami qui hai sbagliato simone se non hai cambiato mica c'è rimasto sempre michelangelo alla mano di simone vabbè no 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 sì 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 no te lo assicuro già ti stai confondendo mano di michelangelo mano di simone e rimane michelangelo vuoi che lo faccio al volo no assolutamente no mi scusi abbiamo allungato un po' la partita che è cortissimo comunque faccio sottolineando gli errori di light perché è sempre bello sottolineare no scusate non è vero però sapete sono montaggi abbastanza complicati e però spero che spero che vi piacciono è un bel esperimento se vi piace questo tipo di forma orso antico per simone è grosso un grosso di prima mano non è male ma non è per far capire subito a michelangelo che ce l'ha grosso ma michelangelo è più grosso e si farba 5 euro in un turno tirando anche miasma che non si sa mai che l'altro riesca a farmare prima del forza chiave dice te sei più veloce forse di me io sono ancora più veloce sono ignorante e poi un altro miasma cioè quindi e miasma sicuramente non serve assolutamente niente ha anche un bel accesso però l'altro vedo che ha diversi selvaggi in mano bam le rimbalza sì le rimbalza subito in mano quella roba lì pixi e strega pixi e strega insieme e poi diceva beh raccolgo anche con l'orso siamo quasi pari di ember generata guardate che questa partita qua va bene insetto bastardo vediamo la mano di cazzarola ehi ha delle cose interessanti nella manina cavolo e lui ne dice flax è soprattutto abbastanza interessante perché gli permette di farmare ancora più velocemente l'ambra invece non ha non ha modo per contrastare fa io che cazzo adesso non può fare niente gli fa vabbè non può giocare cartazione fai conto che ha attivato accesso su quasi subito quindi ha trovato due mozzi con accesso tra l'altro dice facciamo nemmeno meccanico titano meccanico ah bella ah vedi stavolta pescato pescato subito ma in teoria devi pescare subito prima di giocare quella dopo questo qui è il worm allino che si attivano insieme gli effetti si quindi decidi tu l'ordine e mi sa che ha finito però le logos quindi potrebbe essere un problema io avrei attivato però si deve attivare qualcosa io avrei attivato aiuto lui attiva quello no non dovrebbe poter giocare si ha giocato una carta che permette di giocare una carta non logos si però non ha logos da giocare pronti esatto quindi è stupido non so perché l'abbia fatto vabbè vabbè l'altro ovviamente rigioca di nuovo selvaggi si porta in un grandissimo vantaggio poi ha quella che prende più due tutte stappate raccoglie con adesso dice va bene ovviamente raccoglie no attacca col pixi che va bene perché così lui con la strega raccoglie se lo riprende lo rigioca dice va bene tanto non devo rubarti bello 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 io non sono a posto dice va bene bello 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 orso antico non so se attaccherebbe si 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 attacca attacca conviene perché così spende tanto di più forse permette di spendere quindi alla fine assolutamente nulla tanto non ha creatore tanto michelangelo non ha una board che gli possa dar fastidio poi speso gli va bene anche bruciarsi delle carte perché la strega dell'occhio è abbastanza protetta vabbè il trucchetto della civetta non è molto più molto forte purtroppo dice ti frega un artefatto ma non ce l'ho a sto giro e niente miasma tu però non forne miasma gli potrebbe dar fastidio effettivamente però ricordiamo che lui adesso può esatto portarsi in vantaggio con i marti guarda perché farmare tanta ambra non gli serve va bene te li sparo su tutti morti tutti sono sei danni poi aspetta adesso non è finita adesso fa tutto il resto dice attivo marte gioco gioca pronta il ragno si farma un ambra si mette il backup della biomatrice sul ragno e il ragno può raccogliere che l'ha fatto no 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 l'ha fatto secondo me no se dimentica vabbè non dici nei commenti se no dici nei commenti secondo me non ha raccolto contate voi le ambre non l'abbiamo contate si perché troppo veloci c'è stato molto veramente veramente molto saranno anche stanchi giocatore bravi quindi non è che stai lì a pensare pensa che vengono dal nostro amico donkey da casa sono sono amici di donkey si sono amici di donkey bravi c'è la me l'ha scritto fa che lui li sfida ogni settimana sono molto bravi infatti sono veloci a giocare non ho quasi visto cosa ha fatto l'altro ma ha giocato solo cannone e madre stop è ha dovuto ha dovuto buttare via della roba guarda io gioco la cosa per ottenerlo e poi raccolgo con tutto e poi mi ripeto anche una carta in mano quello che fa gli artefatti che te li riprendi in mano e gli riprendi in mano il cannone madre così è sicuro che non gli possa dar fastidio gioca il flatto dell'orso che così se lo può recuperare dal cimitero ricordate e dal mazzo e dal mazzo spara due danni su di lui ottima idea così frega un'ambretta ma va tutto sul ragno va bene rubò va sul ragno il problema del ragno è quello se non hai metodi per spaccarlo secco o un distrutto diretto è difficile sì esatto poi fai conto che è forzata la seconda chiave per simone esatto e niente raccoglio contro qui vado a sistemarli la roba eh sì qui noi sistemiamo la roba perché intanto ho ripreso la sua mano giusto perché per vedere se metto a posto la web mi sembra di si vede proprio la metto a posto adesso mi sembra che fai adesso così e si vedrà sì si vedrà il fatto che metto a posto la web comunque ha rifarmato un botto di ambra si rimbalza le carte che aggiungono ancora mente si rimbalza le carte ecco qui ho rimesso a posto la videocamera così vedete un po meglio ma tanto si rimbalza in mano ma tanto è praticamente ha finito di giocare se guarda ha iniziato a formare una quantità di ember allucinante come vedete ogni è entrata in sinergia la casa dei selvaggi in maniera veramente veramente devastante è davvero forte sto mazzo cioè ho guardato anche un po le statistiche è davvero ha una sinergia allora qui vediamo solo la sinergia selvaggi tra l'altro perché non vediamo il resto del mazzo lui praticamente ha vinto solo ed esclusivamente con la casata selvaggi che ha avuto un farming di ember allucinante tra riprende tra flaxia il pixie e i due i due orsi e bloccando completamente l'altro appunto con il ragno che tra l'altro ha il backup della biomatrice che quindi se lo rimetterebbe negli archivi per fortuna a quello che dimezzava si è l'unico motivo per cui ha ritardato di un turno cioè ve lo possiamo tranquillamente dire simone ha dominato la partita in maniera terremenda sicuramente il mazzo di michelangelo non è riuscito a entrare in combo come avrebbe voluto poi fai conto che questo è uno dei suoi più scarsi ci ha dichiarato perché fai conto che tu hai due mazzi con quel formato lì e ha giocato quello più forte all'inizio che ha perso alla fine verso la fine si verso la semifinale bene terminata questa partita giustamente ha vinto simone bene ringraziamo ancora rosso 5 per queste belle partite viteci se vi piace questo format noi ci rivediamo ad un prossimo appuntamento con keyforge ciao a tutti questo è molto spesfagliano comunque comunque c'è da dire sempre brobner ciao a tutti Grazie a tutti.